Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello, faccio questi video perché sono un appassionato di moto, sai anche tu come me lo sei, iscrivi del canale e attiva la campanella perché pubblico un video al giorno e ti ringrazio. Oggi ti parlo di Ducati 500 SL Panta del 1979, prima di partire voglio salutare l'amico Warner che ha contribuito attivamente allo sviluppo del canale ed è un meccanico d'auto che ha restaurato il suo malaguti MRX50 del 1989, la sua officina del riparazionato, si chiamano WM Autoservices, si trova via San Michele 15 a Briccarasio in provincia di Torino. Per un contatto immediato il telefono al 388 22 39 795, te lo dico perché c'è uno sconto del 10% se ti presenti a nome del canale. Quindi facciamo un passo indietro, partiamo dalla Dharma, la 900 coppie coniche che era il nome della tigre di Sandokan, il leggendario personaggio ideato da Emilio Salgari che di fatto ha dato il nome appunto a questa moto e perché è stata chiamata Panta, perché riprende ed è sostanzialmente il motore, adesso vediamo in che termini, però le sovrastrutture e l'estetica sono state progettate da Marco Cuppini che è un giocatore di basket con la passione per le moto e quindi è stato lui a dare questo nome Panta che è la contrazione di Pantera, perché la moto mantiene sostanzialmente lo schema del motore ad L con il cilindro a 90 gradi, ma la distribuzione passa dalle coppie coniche delle versioni precedenti, della 900 in particolare, quindi della 900 Dharma, scusa, alla cinghia dentata che rimarrà di fatto anche nelle successive moto della Ducati. Quindi a questo punto la vediamo in questa immagine, questo è il modello del 1979, ne sono seguiti poi altre versioni, ma la sostanza della moto è la stessa, quindi notiamo in particolare i carter sul lato destro che portano appunto la distribuzione con la cinghia dentata e non più con le coppie coniche, quindi un'evoluzione ma anche una rivoluzione perché oltre a questa modifica sono state apportate poi anche altre modifiche alla parte, come dire, carica ricambistica comunque del blocco del motore. Qui c'è un motore bicilindrico a L monoalbero raffedato ad aria con la distribuzione desmodromica a due valvoli per cilindro di 498,9 cm3 con l'accensione della Bosch a fasatura variabile. L'alimentazione è fornita a due carburatori della Dell'Otto denominati PHF36 con il diffusore da 36 mm di potenza massima rilevata dalla rivista Motociclismo all'albero è 54,74 cavalli o 9.000 giri al minuto, mentre la coppia è massima di 4,1 kg di 8.300 giri al minuto, quindi sostanzialmente un motore sportivo. Il terreno è formato poi dal classico traliccio in tubi d'acciaio con la forcella che è una Marzocchi teleidraulica con gli stedi da 38 mm di diametro, mentre passiamo al posteriore dove troviamo il forcellone oscillante che è infulcrato nel carter del motore, con gli ammortizzatori sempre dalla Marzocchi a gas, si vede qui bene se gli ammortizzatori di colore rosso con il serbatoio viene in vista del gas, è regolabile su 5 posizioni, la sella alta 760 mm da terra. I freni poi sono formati all'anteriore da un bel doppio disco, vediamolo un po' meglio, eccolo qui, della Brembo con il diametro di 260 mm, mentre dal posteriore è presente il singolo da 260 mm di diametro. Le ruote sono in lega reggera a 6 razzi, molto belle con questo color oro, con un diametro di 18 pollici, l'anteriore come al posteriore. peso vuoto di 180 kg, 192 il peso con un ordine di marcia, diciamo un ordine di marcia, il serbatoio ha una capacità di 19 litri, quindi è piuttosto abbondante la capacità e se notiamo anche questo bel riparo aerodinamico con questa mezza carena molto protettiva, quindi una moto che è destinata a un turismo veloce, ma comunque sempre con l'indole sportiva e i Ducati. La dicevamo, la velocità massima rilevata sempre dalla rivista Motociclismo è di 198 km orari. Se ti è piaciuto il video metti un like, se non ti è piaciuto metti dislike, ma iscriviti al canale e attiva la campanella. Per due motivi, primo è gratis, non ti costa assolutamente nulla, ma contribuisce alla diffusione del canale e ti ringrazio, in secondo luogo faccio un video al giorno, quindi sarai sempre aggiornato, aggiornato sui nuovi contenuti. Qui sotto i tuoi commenti sono sempre molto graditi. Ciao, grazie e buona serata.